Ciao, benvenuti alla intro di Mio Podcasting. Se vorrete parleremo di tanti temi, vi sintetizzerò alle bloggate che hanno avuto più successo sui miei blog. Un podcast con tematiche eterogene e Mio Podcasting. Mio Podcasting, una palestra per la mente da ascoltare comodamente quando e dove vi pare e sulle tematiche che più vi interessano. Inoltre se vorrete potete approfondire la puntata cliccando sui link in descrizione di ogni podcast per raggiungere i miei bloggati dove troverete materiali originali, links, risorse e quant'altro per approfondire il tema. Mio Podcasting, la playlist di Youtube che è una palestra per la mente. Un lungo viaggio se vorrete da fare insieme tra tante tematiche in cui non c'è una meta precisa da raggiungere perché in fondo è il viaggio la cosa più importante. Ciao, vi aspetto.